Dopo la vittoria esterna contro la capolista Villa Biagio, il Rimini torna a fare la voce grossa in campionato tre giorni dopo, liberandoci con una cinquina dell'ostacolo Carpaneto, che nonostante la doccia fredda recata al pubblico bianco-rosso dopo i soli quattro minuti non riesce a tenere testa a Rimini, che indemoniato trova come principale protagonista Bomber Buonaventura, autore di un poker di tutto rispetto. Nel mezzo la rete di Gugliebre, a rientro dopo la squalifica, ma devastante come pochi. Proprio Gugliebre in avvio di gara ruba palla su a tre quarti, tocco per Buonaventura, che spara dal limite, ma il Rea blocca senza problemi. Un giro di lancette e i Rimini è nuovamente in avanti, lancia dei Petti per l'Allotti, che arriva sul fondo da destra, palla al centro, dove Cicarevic anziché tirare, cerchi passaggio e la sfera si perde sul fondo. Nel momento migliore dei Rimini, il Carpaneto passa, al quinto Petti perde palla malamente al limite dell'aria, cercando i dribbling su Rossi, Rossi insieme proprio a Lantier, che solo davanti a Scotti non può fallire, 1-0 e Neri ha mutolito. I tifosi iniziano a protestare, ma alla pazienza si sa è una virtù rara, che non tutti hanno, ma fortunatamente il Rimini, al quattordicesimo, trova il pari. Angolo dalla parte opposta, Buonaventura sale in cielo, stacca il pallone nella propria area, innescando un contropiede micidale dei Biancorossi, con Guilherme e Allotti, che triangolano. Retroguarda del Carpaneto sguarnita, Guilherme si presenta da solo davanti a Herrera e lo batte con un perfetto raso terra di sinistro, 1-1 e palla al centro, ma anche per Abdoul la gioia è incontenibile, finalmente protagonista, come da passato recente. A questo punto finisce qui la gara del Carpaneto, perché Rimini vola sulle ali dell'entusiasmo, se non fosse per Herrera il pareggio sarebbe già saltato, miracoloso sul tiro di Variola e poi sulla ribattuta, sul tentativo di Buonaventura. Preludio a gol tra il dire e fare c'è di mezzo la concretezza del solito Viti, che vola sulla destra con Buonaventura, che anticipa il diretto marcatore, girando il pallone di testa alla destra dell'impotente Herrera. 2-1, sorpasso compiuto e terzo gol in tre giorni della riete bianco-rosso. A testa serissimo, l'antiero, uomo di maggior qualità del Carpaneto, deve abbandonare il campo, entra al suo posto Terranova. Proprio quest'ultimo fa in tempo ad assistere all'ennesima ripartenza dei padroni di casa, che termina con l'atterramento di Arlotti in area di rigore ad opera di Foggiazza, che viene puntualmente ammonito. Dagli 11 metri Buonaventura spiazza Herrera per il 3-1 dei Rimini, 4 centoli in tre giorni per l'attaccante bianco-rosso. Il Carpaneto tenta una timida reazione, favorito da Rimini, che si specchia, ma si addormenta, qui Scotti ci mette una pezza, chiudendo sotto i terri, e poi, respingendo il nuovo tentativo ospite, di pugno. Squadra a riposo sul 3-1. Nella ripresa di Rimini perde Variola, successivamente sarà la volta anche di Claudio Colla, ma al quinto è Scotti ed evitare che si riaprano i giochi, deviando i corner una pericolosa conclusione di Colla. Ancora Carpaneto in avanti, azione manovrata, ma Franchi, petendo un po' troppo, non inquadrando, il bersaglio. A diciannovesimo arriva il poker del Rimini. Allotti tali campo da sinistra, doppia finta di Ambrosini, Buonaventura, palla a biti sulla destra, tiro respinto da Herrera e sulla ribattuta si avvente a Buonaventura, infilando il personale Tris. Cinque reti in due giornate, abbraccio meritato da parte dei compagni. Ma Buonaventura è irresistibile, tre minuti più tardi realizza anche il poker personale, il sesto gol in due giornate. Altra mareggiata bianco-rosso in ripartenza, Lotti ce ne va a sinistra e spara in diagonale. Herrera non trattiere, nemmeno stavolta, e sul pallone c'è sempre lui, Alex Buonaventura, che firma il 5-1. E chi vive in questo caso di pane, calcio e Rimini, come il giornalista Cristiano Cerbara, non poteva far altro che ricordare a Buonaventura che, puntini puntini. Comunico, ufficialmente, che sei il quinto marcatore, ma è una soddisfazione enorme, ecco. Diciamo che quelli che mi sono davanti hanno fatto anche dei campionati molto più importanti, però è un motivo di orgoglio, ma allo stesso tempo è un motivo per continuare a lavorare così. Nel finale, ne ho entrato Ambrosini, chiama l'apparato il portiere Herrera, mentre dall'altra parte Carpanetto è desideroso di mostrare che non sia venuto in vacanza o in gita turistica a Rimini. Fetti a terra Terra Nova, con qualche dubbio. Il tocco sembra non esserci. Dagli 11 metri, Franchi sigra il secondo gol, dimezzando una distanza che si faceva sempre più ampia. Anche se nel finale, l'altro ne ho entrato di Stefano si divora così il gol del 6-2, ma poco importa. Da questa sera, questo uomo, criticato dieci giorni fa, viaggia solo per la sua strada, senza neppure girarsi, ha imboccato quella del successo. Buona fortuna e occhio a non diramare mai. Grazie.